Istituita la giornata del valore alpino, approvato il programma 2022 dell'IRES, Emergenza siccità, ridurre la dispersione idrica Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, l'Aula ha approvato la legge che istituisce la giornata del valore alpino. Con 25 voti favorevoli, 3 contrari e 11 astenuti, il Consiglio regionale ha approvato la legge che istituisce la giornata del valore alpino, che si celebrerà il 16 gennaio, data indicata dal proponente della PDL Davide Nicco, Fratelli d'Italia, in ricordo del sacrificio degli alpini caduti nella campagna di Russia. È una giornata che non è solo celebrativa e quindi non guarda solo al passato e al presente del corpo degli alpini, ma guarda soprattutto al futuro, nel senso che intende stimolare una serie di azioni positive sul territorio per portare avanti il valore degli alpini sia da un punto di vista teorico, quindi di idee, di manifestazioni sul territorio per ricordare il valore, ma anche di recupero del patrimonio storico e culturale che in qualche modo ricorda il valore degli alpini sul territorio. Nel corso delle sedute dedicate al provvedimento, i consiglieri di opposizione hanno presentato numerosi emendamenti chiedendo di cambiare la data, criticando quella scelta perché legata alla battaglia di Nicolaevka, una pagina drammatica della storia italiana, è troppo vicina alla giornata nazionale della memoria del sacrificio alpino recentemente istituita con legge dello Stato. Moralmente ci sentiamo vicini agli alpini, ma avremmo voluti che gli alpini da questo consiglio regionale fossero riconosciuti in un altro modo, con un'altra data e soprattutto con un altro spirito, perché lo spirito degli alpini non è lo spirito di parte che voi avete dimostrato in queste giornate. Lo stesso Nicco si è detto disponibile a procedere a un cambiamento con una modifica legislativa, individuando una nuova data anche con l'aiuto dell'ANA. Sono sei gli ambiti di studio previsti dal programma 2022 dell'IRES, a cui l'Assemblea ha dato il via libera. Il Consiglio ha approvato a larga maggioranza il programma annuale di ricerca 2022 dell'IRES, l'Istituto di ricerca economico-sociali del Piemonte. Il Partito Democratico ha dato voto di presenza. Il documento, illustrato dall'assessore alle partecipate Fabrizio Ricca, prevede sei ambiti di studio, valutazione dei risultati delle politiche, attuazione delle politiche, conoscenza sui problemi collettivi, analisi delle spese e degli investimenti, sostegno alle realtà territoriali per migliorare lo sviluppo, rafforzamento della capacità delle istituzioni di usare i risultati delle analisi. Le attività saranno finanziate con un contributo annuo di 3,5 milioni di euro. L'Aula ha approvato due emendamenti proposti dal gruppo Lega. Il primo, affirma Alessandro Stecco, integra il monitoraggio della rete oncologica attraverso un'indagine su diabete e obesità. Il secondo, affirma Sara Zambaia, prevede l'inserimento di quattro obiettivi nelle attività di analisi del reddito delle famiglie piemontesi. Quante famiglie hanno almeno una persona disabile all'interno dell'abitazione, età e tipologia di disabilità? Quali e quante disabilità sono diagnosticabili durante la gravidanza? E quale incidenza economica a carico della famiglia? Respinti due emendamenti, affirma Monica Canalis, Partito Democratico, su settore orticolo e gestione forestale. Approvato un ordine del giorno presentato in nome dell'Aula per l'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra contro l'umanità del Terzo Reich nella Seconda Guerra Mondiale. L'atto di indirizzo è un esplicito invito al Governo nazionale a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al risarcimento, estendendo la riapertura dei termini anche agli ex deportati e ai loro eredi. Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno 849, sostegno al sistema del credito cooperativo primo firmatario, il Presidente Stefano Allasia è sottoscritto da maggioranza e opposizione che impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale ad attivarsi affinché siano adottati provvedimenti legislativi che non mettano a rischio il sistema di credito bancario cooperativo e a valutare la possibilità di adottare iniziative che evitino la chiusura degli sportelli bancari nei piccoli comuni e nelle aree interne della regione. Combattere elasticità anche attraverso la riduzione dello spreco d'acqua. Questo è il tema dell'interrogazione che il Consigliere del Partito Democratico, Domenico Rossi, ha rivolto all'assessore Matteo Marnati. Secondo recenti rilevamenti, il fiume Po avrebbe una portata d'acqua del meno 94% rispetto al dato di portata naturale. Il fiume Sesia è a meno 72%, il lago Maggiore è pieno al 22%, la quota più bassa mai registrata dal 1942. Sono 70 i comuni piemontesi in cui al momento sono state adottate ordinanze sull'uso consapevole dell'acqua potabile, finalizzato cioè ai soli scopi alimentari. Alla luce di questi dati, il Consigliere PD Domenico Rossi, nel corso dei Question Time, ha interrogato la Giunta regionale per sapere quali azioni intenda mettere in campo per affrontare l'emergenza siccità. Grazie all'accordo di programma per l'assegnazione e regolamentazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha specificato l'assessore all'ambiente Matteo Marnati, il Piemonte potrà usufruire di 33,54 milioni di euro per opere di servizio idrico integrato, nello specifico, ha concluso Marnati, tra questi interventi sette riguardano la riduzione delle perdite idriche per un valore di oltre 5 milioni di euro. La Scuola Allievi Carabinieri di Torino compie 200 anni di vita. Per tutto il mese di luglio, al Mastio della Cittadella di Torino, luogo simbolo che ospitò i primi allievi carabinieri, sarà allestita la mostra Guarda a voi, 200 anni della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, che ne racconta per immagini la storia e l'evoluzione. È uno degli eventi annunciati a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, realizzate con il sostegno del Consiglio e della Giunta regionale del Comune di Torino. Uomini che da oltre due secoli sono presidio delle istituzioni e della convivenza civile. Un vanto è un fiore all'occhiello per Torino e per il Piemonte. Noi pattugliamo strade, come facciamo una volta e facciamo tuttora, proprio per essere vicini al cittadino. I cittadini devono capire, devono imparare che la pattuglia è lì per loro, per essere al loro servizio e chiunque si può rivolgere a loro. La mostra Guarda Voi, 200 anni della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, è visitabile gratuitamente tutti i giorni, dal 1 al 31 luglio, dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 19 e da ottobre verrà nuovamente allestita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale. Abbiamo cercato di selezionare alcune piccole cose che la gente non conosce, il retroscena delle piccole curiosità, qualcosa che umanizza molto questo percorso e non lo rende solamente una mossa di carattere autocelebrativo, autoreferenziale e cerimoniale. Grandi nomi dello spettacolo, da Margherita Fumero ad Arturo Brachetti, insieme al Teatro Gobetti per una serata dedicata a Derminio Macario. Ciak si gira, la Mole di Macario, serata evento al Teatro Gobetti di Torino dedicata al grande artista torinese. Lo spettacolo è stato organizzato dall'Associazione Lingua Doc, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, per celebrare i 120 anni dalla nascita di Arminio Macario. Sul palcoscenico, grandi artisti del calibro di Margherita Fumero, Arturo Brachetti, Valerio Liboni, Bruno Quaranta, Franco Barbero e Danilo Bruni, che, coordinati dal regista Giulio Graglia, hanno fatto rivivere al pubblico la magia del varietà, il genere a cui si ispirò Macario, con filmati originali forniti dalle Techerai, brani inediti e sketch live. Devo dire grazie a lui che mi ha scoperto, mi ha insegnato i tempi, mi ha insegnato come si sta sul palcoscenico. Ancora adesso io quando faccio gli spettacoli, la prima di uno spettacolo, io rivolgo sempre in su, dico, comendatore, ho fatto bene, è contento di me. Erminio Macario era una maschera perché lui si portava ancora tutta la tecnica e la gestualità della commedia dell'arte, dei comici, della rivista, e ancora prima del varietà. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.